Quinta corsa e premio felice, una prova di inseguimento a 2060-2080 metri per cavalli a reclamare, a 6.000 quelli a 2060, a 12.000 Boni e KSM che è a 2080 metri. Cari sono già nei nassi di partenza, per la ciao un Byron Staff, Ariel Cup, Zucchiero, Jet, Brumagallo, Dette Jet, Zola e Gralla, primo nastro, il solo Boni e KSM a 20 metri. Il più veloce allo stacco è il numero 3 di Ariel Cup che scivola al comando ma deve fronteggiare immediatamente l'attacco all'esterno da parte di Zucchiero, Jet, che in breve ottiene il via libera ed è il leader dopo 250 metri di corsa. Terza posizione per il numero 5 di Brumagallo che precede poi gli altri. Quinta posizione per Bella Ciao, quando si va adesso quasi ad affrontare la seconda curva con Ariel Cup che sullo slancio ha preso un buon margine di vantaggio sul resto della compagnia. Ha capeggiato ancora ad Ariel Cup, intanto ha mosso in seconda corsia, Bella Ciao, quando si va ora al completamento della seconda curva. 800 metri di corsa dal falo che vanno via in 1, 2 e mezzo. Rallentamento da parte del battistrada e ora quelli dietro che provano a recuperare. Serrà sotto anche Ariel Cup. Si arriva così al chilometro, tutto sommato abbastanza comodo, nell'ordine dell'1, 19, 3. Quindi a natura più che lenta quella imposta da Zuccheroggetto una volta acquisito il comando delle operazioni. Si va formando la fila esterna con sempre Zuccheroggetto al comando. È Bella Ciao che si incarica di portare quelli di fuori sul battistrada. Quando siamo adesso di fronte, seconda posizione alla corda ancora per il numero 3 Ariel Cup, 400 al palo, a metà di top posta in 30 e mezzo. Seconda pariglia per Zola e Gralla. Quando ora il ritmo si fa più sollecito con Zuccheroggetto che cerca di farla pesare all'avversario che è all'esterno. a metà della piegata conclusiva, tre pariglie per il momento a disputarsi la vittoria. Zuccheroggetto al comando, ora ci prova di nuovo Bella Ciao ad andare sul battistrada. Si scopre anche con il numero 7 Zola e Gralla. Zuccheroggetto ancora leader su Bella Ciao che guadagna, poi Zola e Gralla che è anche molto veloce. Zuccheroggetto ancora al comando, arriva al palo. Zuccheroggetto che nel finale si difende da tentativi da parte di Bella Ciao che precede a sua volta Zola e Gralla. Sono rimaste mutate in retta arrivo le posizioni con il successo di Zuccheroggetto. Giuseppe De Filippis, una prima parte di gara lenta, una seconda ben più veloce, 43 a chiudere per gli ultimi 600 metri. 2,32,7 il doppio chilometro è successo per il figlio di Panci per Rengaggetto, Karim Berri al training. Giuseppe Ussia ai colori, secondo posto per il numero 1 di Bella Ciao, terzo posto per il numero 7 di Zola e Gralla. Nell'ordine dell'1,17 la media al chilometro, 1,17 scarsi per Zuccheroggetto e Giuseppe De Filippis. Grazie a tutti.